Questa cosa praticamente non sollevano niente, l'attretto pneumatico è molto veloce, questa è la finitura con l'attretto pneumatico, però scusamo hanno fatto il buco dietro perché non... e quello lo farà sicuramente allo stesso posto, perché ce lo ricorda, quindi loro possono tranquillamente fare due taglie, hai visto che aggiustavano un po' in base alle misure? Una cosa veramente... Grazie.